Continuiamo la visita di Santa Maria della Scala. Nata nel XIII secolo come ospizio per i pellegrini, è stata a lungo l'ospedale della città. Ci troviamo ora nella Sagrestia Vecchia. Sotto il baddacchino c'è la quattrocentesca Madonna del Manto di Domenico di Bartolo. Alle pareti affreschi di Lorenzo di Pietro, detto il becchietta questo, e il giudizio universale. Anche questi sono della metà del Quattrocento e principalmente illustrano gli articoli del credo facendo riferimento ad Antico e Nuovo Testamento. La Sagrestia Vecchia era stata allestita per ospitare la reliquia del Sacro Chiodo da cui si entra nella chiesa della Santissima Annunziata ed infine nel locale più importante il pellegrinaio era qui che erano accolti pellegrini in una grande sala a sviluppo longitudinale completamente affrescata sia lungo le pareti che sulle volte. Sono affreschi della metà del Quattrocento che per le pareti vedono impegnati Lorenzo di Pietro, Domenico di Bartolo, primo della Quercia. Entrando sulla sinistra si incontrano gli affreschi che raccontano la storia del pellegrinaio a tutti gli effetti un ospedale dell'investitura del rettore, questo, all'autonomia concessa all'ospedale da Celestino V. Si impostano su grandi scene corali che danno risalto all'architettura e dai costumi dell'epoca. Santi, profeti e personaggi dell'Antico Testamento occupano le volte che sono state affrescate da Agostino di Marsiglio. Ancora più interessanti per me sono gli affreschi della parete di destra che raccontano la vita dell'ospedale e la cura delle malattie e non solo, anche la cura degli indigenti. Questa scena che di Bartolo intitola La limosina è un vestire gli ignudi ed è ancora a prendersi cura dei bambini abbandonati che poi, se sono bambine, non può che concludersi con un felice matrimonio celebrato proprio qui, nel pellegrinaio. Passiamo per la Cappella del Manto Il nucleo più antico del complesso lo vediamo anche da questi affreschi e poi cominciamo a scendere nei sotterranei In questi locali, che anticamente erano gli antichi granai sono state ricollocate le statue della Fontana Gaia Le più deteriorate sono gli originali di Jacopo dalla Quercia quelle accanto, le copie ottocentesche Meglio conservate e restaurate le statue di Ria Silvia e di Accalarenzia di Jacopo dalla Quercia fanno bella mostra di sé Le vediamo ancora allontanandoci Si entra poi nell'oratorio di Santa Caterina della Notte dove dal buio emerge questo triptico di Taddeo di Bartolo Nei magazzini c'è il tesoro di Santa Maria della Scala una serie di magnifici oggetti liturgici d'erte medievale che risaltano nel buio delle sale Questo proviene da Costantinopoli Grazie a tutti i nostri spettatori E' sorpreso di trovarci quest'opera contemporanea di Mimmo Rotella e poi continuiamo a scendere le confraternite di Santa Maria sotto le volte nel Trecento questi locali li ha affrescati da poco riscoperti raccontano la vita dei monaci Grazie a tutti i nostri spettatori